forza lotta vincerai non ti lasceremo mai ale 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 milanale forza lotta vincerai non ti lasceremo ma ciao a tutti carissimi amici e bentornati sul canale del briga ragazzi oggi questa carica questa carica ve la voglio trasmettere perché ragazzi secondo voi perché perché a quanto pare la situazione sta sta andando avanti finalmente sembra arrivato il momento sembra arrivato il momento ma non è ancora niente di sicuro non c'è niente ancora di ufficiale a quanto pare si stanno scambiando i documenti per poter diciamo firmare questi contratti ragazzi noi abbiamo aspettato tutto sto tempo a sto punto per dare l'ufficialità e festeggiare l'arrivo di Charles de Ketelan io direi di aspettare ancora un po perché vi siete considerati che abbiamo aspettato per mesi possiamo aspettare qualche altra ora per avere la certezza che questo sarà un nostro giocatore io veramente non vedo l'ora ragazzi nel frattempo lasciatemi e diciamo sponsorizzare one football vi invito a scaricare l'app di one football fatelo sotto in descrizione non vi potete sbagliare semplicissima da usare molto diciamo abbastanza non implica non impiega molto spazio sul vostro telefono sempre aggiornata su tutte le voci di calcio mercato quindi ragazzi veramente per un appassionato di calcio l'app di one football è veramente un'ottima situazione perché poi tra l'altro puoi anche scegliere di essere avvisato le notifiche le cose perché quando ci sono novità ti arrivano le notifiche ti dicono guarda che Charles de Ketelan sta per arrivare quindi lo puoi venire a sapere tranquillamente da one football ragazzi ragazzi quindi il discorso è questo qua finalmente finalmente sembra davvero che le cose diciamo come si dice che un club stia da madre come diceva il mio amico matteo rinaldi che saluto in questo in questo caso diciamo oggi mi ha ispirato con questa situazione un club stia da madre evidentemente si sta veramente sta sta finalmente cadendo dall'albero il frutto maturo perché ragazzi oggi ancora una volta il giocatore non si è allenato quindi è già il secondo giorno consecutivo che non partecipa agli allenamenti non perché non vuole partecipare e quindi ha detto a loro io basta qua non faccio più niente prendo e me ne vado eccetera eccetera si è messo d'accordo con il proprio allenatore con la propria società dicendo che veste considerato che la situazione questa qua preferisce non rischiare diciamo non rischiare di magari farsi male e quindi starsene bello tranquillo ad aspettare che questa diciamo situazione possa diventare davvero una volta per tutte reale qualcosa insomma di concreto infatti sono uscite poco fa le parole dell'allenatore del bruce che dice che il giocatore preferisce non allenarsi proprio per il fatto che vuole evitare infortuni l'allenatore ovviamente vuole un giocatore diciamo come dire assolutamente all'interno diciamo del del progetto squadra eccetera e quindi non ha molto senso allenarsi con un'altra squadra nel momento in cui tu stai per passare ad un'altra e quindi questo è ancora una volta di più un diciamo un segnale che le cose veramente stanno 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 andando avanti insomma nelle ultime ore di ieri sera c'era stata ancora qualche voce da parte di Di Marzio in questo caso che diceva che c'erano ancora delle piccole difficoltà da superare eccetera il bruce magari aveva voglia di avere qualcosina in più per quanto riguarda la parte fessa piuttosto diciamo che nei bonus però penso che questo sia un discorso che ormai diciamo sia risolto perché voglio dire se è arrivato comunque a 35 ragazzi penso che il giocatore i 35 milioni possano possano veramente bastare anche perché come dicevamo nella chat dei miei abbonati che saluto e che abbraccio tutti e a cui mando un grande bacione dicevamo è chiaro che è chiaro ed evidente che quando c'è una quando c'è una trattativa e ci sono due squadre interessate chiaramente ad un giocatore ma il giocatore ha scelto te e solo te è chiaro che questo un po' di peso lo deve avere è vero che il bruce aveva anche dalla parte del leads diciamo un'offerta magari superiore a quella del milan però è chiaro che il milan deve avvicinarsi a quell'offerta là ma è anche vero che il bruce deve tener conto del fatto che il giocatore vuole assolutamente solo il milan e che se non diciamo non firma per il milan magari resta con il muso e te lo devi tenere magari un'altra stagione così e sappiamo quante volte queste cose sono successe e poi il giocatore magari non ha fatto quello che ha fatto diciamo fino ad ora proprio perché ormai con la testa era diciamo già in un altro posto quindi in quel caso lì ti devi accontentare di una cifra magari un pochino più bassa però devi tener conto assolutamente della volontà del giocatore che spesso volentieri diventa decisiva ecco perché molte volte dicevo ma possibile che proprio a noi non deve mai centrare niente la volontà del giocatore e che cazzo invece per una volta a quanto pare la volontà del giocatore ha la sua valenza anche anche diciamo in questa situazione anche per quanto riguarda il nostro milan quindi ragazzi aspettiamo e vediamo un po' sembra che la situazione si stia sbloccando c'è addirittura chi parla di visite mediche prenotate per la giornata di domani nel senso che il giocatore dovrebbe insomma se riescono in giornata a scambiarsi questi benedetti documenti il giocatore poi sarà libero di partire per Milano e quindi appena diciamo arriverà a Milano farà sicuramente le visite mediche per essere poi a disposizione da lunedì per gli allenamenti questo è quanto ci dicono e la speranza ovviamente è questa qua perché ragazzi dobbiamo assolutamente prenderlo perché io penso che lui sia il numero 10 adatto a questa squadra per caratteristiche per qualità per essere diciamo un giocatore non solamente bravo tecnicamente forte tecnicamente ma anche fisicamente è un giocatore bello prestante un giocatore giovanissimo futuribile quindi ragazzi dalla faccia pulita quindi con la testa sulle spalle cosa che non è assolutamente mai da tenere diciamo da scartare perché è sempre molto importante insomma il Milan vede spesso prima all'uomo che il calciatore e quindi sicuramente De Kettler da questo punto di vista è assolutamente rientra insomma in questi in questi parametri detto questo ragazzi poi ci sono tutte le altre voci c'è una situazione in divenire anche per Renato Sanchez però io andrei per gradi perché qua è chiaro che Renato Sanchez sta aspettando il Paris Saint Germain ormai sembra evidente la cosa perché altrimenti avrebbe già firmato insomma per il Milan invece sta aspettando il Paris Saint Germain ragazzi due sono le cose se vogliamo fare quelli con la puzza sotto il naso possiamo dire eh no vabbè ma allora se hai scelto il Paris Saint Germain e noi non siamo una seconda scelta allora vai basta non ci interessa più niente noi andiamo su un'altra scelta è assolutamente una cosa condivisibile è una scelta condivisibile questa qua vivere diciamo il come dire la situazione ognuno poi reagisce a modo suo io penso che un pochino più realisticamente è chiaro che questa è una cosa che dà fastidio sempre però c'è da dire una cosa è chiaro che in questo momento storico il Paris Saint Germain c'ha un appell superiore al Milan ovviamente c'ha anche uno diciamo degli ingaggi superiore quindi più che appell si parla ovviamente di ingaggi perché se il Milan poi magari offre tre e mezzo a Renato Sanchez magari può arrivare a quattro proprio per l'opera dello spirito santo il Paris Saint Germain gli dà 5-6 milioni così tranquilli 6-7 milioni così ad occhi chiusi in scioltezza quindi è chiaro che l'appell riguarda soprattutto il discorso economico se il Paris Saint Germain non affonda il colpo per Renato Sanchez e lui a un certo punto si vede un pochino spiazzato non vuole continuare con il Lille e accetta l'offerta del Milan ragazzi io me lo prendo io me lo prendo comunque perché è un giocatore che secondo me potenzialmente devastante è uno di quei calciatori che quando in giornata ti fa la differenza è uno di quei calciatori che ti dà anche la possibilità tecnica e tattica di diciamo avere delle alternative tattiche in campo è uno che sa calciare da fuori che è una meraviglia e noi non abbiamo diciamo grossissimi stoccatori dalla distanza forse un pochino solo tonali spesso e volentieri calcia da fuori prova a calciare da fuori però non abbiamo grandissimi tiratori insomma servirebbe anche questo e sarebbe sicuramente un vantaggio avere un giocatore con quelle caratteristiche quindi io in questo momento qua d'accordo che non è mai una bella cosa essere una seconda scelta ma io un giocatore come Renato Sanchez e in questo momento storico capirei la situazione di voler magari andare a giocare con Messi con Bappé e compagnia bella al Paris Saint Germain se nel caso in cui la cosa non dovesse succedere ragazzi è chiaro che io almeno me lo prenderei senza dubbio ragazzi io aspetterei l'ufficialità per essere sicuri di tutto quello che sta succedendo vi voglio bene vi saluto continuate ad iscrivervi al canale del briga lasciate un like condividete abbonatevi tasto grazie tutto ciò che volete vi voglio bene forza lotte vincerai non ti lasceremo mai ciao a tutti